...a promuovere, diciamo, in questo, il dispositivo S-Drive, la tecnologia che ci permette di progredire in questa conoscenza. Nella nostra mente, naturalmente, alcuni concetti sono in competizione. Concetto A contro concetto B. Pensiamo di vivere in un mondo dettato dalle leggi della fisica newtoniana oppure, ad esempio, della fisica quantistica. Un altro concetto in competizione, quello che in psicologia si chiama dissonanza cognitiva, è questo. Paradigma genetico o paradigma epigenetico. E questo, per il nostro discorso di oggi, è molto interessante perché il paradigma genetico è un paradigma deterministico, come sappiamo bene. Se possiedo l'informazione X, nel mio DNA, esprimerò in maniera deterministica quell'informazione. Quindi dal DNA, espressione dell'informazione, organismo, è il concetto, naturalmente, di salute e benessere. Qui c'è il genotipo, la memoria genetica, qui c'è il fenotipo, l'espressione di quella memoria. Ok? Quindi, se ho l'informazione verde, giusto per capirci, esprimerò il verde. Se ho l'informazione gialla, esprimerò il triangolo giallo. Il paradigma epigenetico cos'è, a mio avviso? È una complessificazione infinita di quello precedente. Cioè, c'è l'introduzione di un altro elemento che naturalmente rivoluziona e complessifica il tutto. La memoria epigenetica, no? Qui ci sono gli interruttorini, le mitilazioni, il microRNA, gli stoni, eccetera, eccetera. Questa memoria epigenetica ha due input. Cioè, le memorie epigenetiche ereditate. Pensiamo al fatto che, ad esempio, mia nonna era una grande fumatrice, oppure mio papà era un obeso. Però, un altro input sono le esperienze. Oggi abbiamo parlato molto di esperienze, esperienze ambientali, alimentari, motorie, psicologiche, sociali. Pensate al microbioma, uno dei fattori che più influenza l'epigenetica della nostra memoria. Quindi qui cosa ci abbiamo? Ho l'informazione verde, diciamo come informazione del DNA. Se magari ho avuto, appunto, mia nonna grande fumatrice, oppure vivo in un ambiente inquinato, con, non lo so, un campo elettromagnetico Z, oppure, non lo so, con un inquinante particolare, io avrò quella mitilazione che farà sì che l'espressione ci sia nel mio fenotipo. Però, vi faccio notare che se ho l'informazione gialla e, ad esempio, ho un'esperienza psicologica di un certo tipo, tipo, appunto, un trauma infantile, ma non solo in negativo, anche in positivo, pensiamo a un'ottima infanzia, quell'informazione del DNA potrà essere tolta dal mio fenotipo. Già questo cosa ci dice? Ci dice che, se è vero questo modello, la selezione naturale, che agisce naturalmente sul fenotipo, non seleziona solo la memoria genetica, ma anche quella epigenetica. E questa è una cosa molto importante. Un'altra cosa che assolutamente vale la pena ricordare è che qui abbiamo una tecnologia che per la prima volta al mondo, ad un costo così basso e con dei tempi così rapidi, ci permette di mappare più di 800 siti di questa famosa memoria epigenetica. Visto il tempo, vado un po' veloce e guardiamo un attimo le esperienze. Io, diciamo, l'epigenetica la definisco così. Cioè lo studio scientifico delle esperienze ereditate e non, depositate nelle memorie non genetiche, che cambiano l'espressione, chiaramente non il contenuto informativo, del nostro DNA in maniera ereditabile e non. Ci sono delle dinamiche che si possono ereditare, altre no. Quindi l'epigenetica ci insegna che le esperienze che facciamo quotidianamente, nutrizionali, motorie, psicologiche, ambientali, del microbioma, eccetera, influenzano la nostra biologia modificando la famosa memoria epigenetica che abbiamo visto prima. Quindi abbiamo memorie, scusate, esperienze che influenzano dal punto di vista appunto di un'esperienza motoria alle cellule muscolari, nutrizionali, stiamo parlando di altri domini, ma la logica sottostante è sempre quella, l'inquinamento fa lo stesso lavoro, diciamo, e così anche quelle psicologiche. Perché vi faccio notare che la famosa neuroplasticità viene definita come cambiamento morfologico, quindi della struttura dei neuroni, si dice esperienza dipendente. Quindi dipendente da cosa? Dall'input che è assolutamente informazionale nel caso delle esperienze psicologiche. Cosa significa l'atto pratico? Io mi impegno a focalizzare la mia attenzione per imparare la mappa delle strade di Londra, ad esempio, come facevano i tassisti prima dell'arrivo del navigatore dei cellulari. Mi impegno in questo. Cosa succede? L'output è che il mio impocampo aumenta di volume. Quindi la struttura proprio dei neuroni cambia. Alla luce di questo, cioè del paradigma dell'epigenetica, a mio avviso la psicologia acquista un ruolo assolutamente è finora sottostimato non solo dall'ambiente biomedico che da quello psicologico. E per questo, circa cinque anni fa, ho coniato questo termine psicologia epigenetica e cerco di essere il più attivo possibile, diciamo, nel divulgare questo settore della psicologia scientifica che non è altro che lo studio dell'impatto psicologico in termini naturalmente cognitivi, emotivi e motivazionali della memoria epigenetica. Quindi questo settore a mio avviso è stato fondato da uno studio fatto da queste due bravissime scienziate, Elizabeth Blackburn che è una biologa molecolare australiana che ha vinto il Nobel per la scoperta dei telomeri e la sua amica collega psicologa Elisa Heppel che ho anche il piacere di conoscere. Queste due hanno fatto nel 2004 uno studio che è a mio avviso epocale perché hanno dimostrato per la prima volta al mondo che tra una persona che gestisce bene lo stress psicosociale quindi qui non c'è chimica qui è lo stress dell'informazione tra una persona che lo gestisce bene e una persona che lo gestisce male la differenza va da 9 a 17 anni di vita e questo naturalmente studiando la lunghezza dei famosi telomeri che sappiamo essere diciamo l'orologio biologico più attendibile che abbiamo. Le emozioni ecco un'altra parola appunto di cui abbiamo parlato tantissimo sono come vengono definite normalmente come esperienze psicologiche coscienti adattative nel fronteggiare situazioni biologicamente significative ok per l'organismo io vi propongo questa definizione che è non alternativa ma si sovrappone è un altro punto di vista diciamo così per cui le emozioni sono degli attivatori epigenetici psico-neuro-endocrine o immunologici che determinano cambiamenti fisiologici che vanno naturalmente a impattare anche sulla nostra salute un esempio tra i tanti che potrei citare ma uno che mi piace in particolare è il lavoro fatto nel 2005 da questi due bravissimi scienziati Mini e Ziff che cosa hanno fatto hanno dimostrato che nei topolini maggiori sono le cure parentali il famoso grooming leaking cioè lo spulciamento il leccamento che la mamma topolina fa ai propri piccoli maggiore appunto sono queste cure parentali maggiore il cambiamento epigenetico indotto nei cuccioli migliore anche l'efficacia della gestione dello stress di questi cuccioli maggiore il senso di curiosità i comportamenti esplorativi memoria spaziale e avanti 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 maggiori anche saranno le cure parentali verso i propri cuccioli quindi qua vedete anche la dimensione intergenerazionale della cosa vi faccio notare che cure parentali gestione dello stress curiosità comportamenti esplorativi sono tutte emozioni è diciamo così l'amore che la mamma topolina esprime nei confronti dei propri cuccioli quindi questi sono a mio avviso proprio degli attivatori epigenetici che naturalmente hanno diciamo un impatto molto molto importante sulla salute e sul benessere in questo caso di Topolini ma noi possiamo fare i nostri ragionamenti traslando diciamo il messaggio a livello umano infatti il modo di gestire lo stress psicosociale il nostro livello diciamo di ottimismo pessimismo l'ansia che viviamo il senso di controllo che percepiamo dagli eventi di vita che abbiamo la qualità del supporto sociale anche oggi ne abbiamo parlato diciamo abbastanza la frequenza di quelle che si chiamano esperienze di flow tradotto in italiano sono esperienze ottimali che vedremo fra pochi secondi determinano tutte la nostra longevità e la nostra qualità di vita non sto dicendo che siano l'unico naturalmente fattore ma sono un fattore molto significativo qui vi parlo appunto del flow cos'è questa esperienza ottimale è l'emozione che determina la nostra soddisfazione di vita ok a livello di diciamo così di letteratura scientifica si ha un po' paura di parlare di felicità no è un qualcosa che forse è troppo grande per essere così catalogato dalla scienza però sappiamo che le persone che hanno molto flow sono più contente sono più soddisfatte della propria vita è un qualcosa che come vedremo adesso intacca positivamente questa volta la nostra salute questo è un signore purtroppo ci ha lasciati due anni fa un professore Cizze Miali che per primo al mondo ha studiato in una maniera scientifica questa emozione io ho avuto il piacere e l'onore di fare la tesi di dottorato con lui in California e vediamo un attimo cos'è questo flow è uno stato soggettivo in cui la persona è completamente coinvolta quindi è completamente immersa in quello che sta facendo e lo fa per il gusto stesso di farlo e percepisce un equilibrio tra le proprie capacità e il grado di difficoltà dell'attività intrapresa la complessità dell'attività non deve essere né troppo alta se no andiamo in ansia né troppo bassa perché se no c'è noia ok come potete vedere vediamo se ecco ci sono riuscito il settore ad esempio dello sport io sono diciamo anche uno psicologo dello sport il flow questa emozione è molto molto conosciuta ma naturalmente ce l'abbiamo tutti è la frequenza di questo flow che cambia se le persone depresse naturalmente hanno poco accesso a questa emozione però ad esempio i grandi diciamo ci sono persone che hanno più facilità nell'auto promuoversi queste esperienze ottimali sono identificate da alcune dimensioni esperienziali gli scopi le interazioni sono chiare l'attenzione è totalmente concentrata c'è un alto senso di controllo della situazione pur essendo la situazione vi faccio notare non semplice è molto sfidante 5 minuti benissimo anche questa è una sfida in effetti hai rivolinato il flow hai rivolinato il flow no io lo riprendo mi viene in mente appunto la testimonianza del cacciatore che dice bisogna avere un atteggiamento positivo e mi piacciono le sfide in questo senso è essere pro flow diciamo pro esperienze ottimali c'è un'assenza di giudizio sociale tradotto non ce ne frega niente in quel momento del giudizio altrui la percezione sempre distorta del tempo 99 volte diciamo su 100 il tempo si dice vola dal punto di vista esperienziale vivere le esperienze di flow migliora il benessere psicologico aumenta il grado di soddisfazione come vi ho detto anche prima migliora la creatività il problem solving la produttività lavorativa le performance anche psicofisiche pensiamo allo sport questo lo si sa forse da più di 20 anni diciamo dimensione più dimensione meno ecco però solo recentemente solo negli ultimi anni sappiamo che l'esperienza ottimale determina la nostra salute sia fisiologica che cellulare c'è questo signore che si chiama George Crusos uno dei più importanti endocrinologi quindi non è uno psicologo è un endocrinologo mi pare di ricordare che abbia pubblicato più di 1400 pubblicazioni cioè ecco un mostro diciamo in senso positivo questo signore da circa 4-5 anni va in giro per il mondo nelle sue slide fa vedere come il flow sia uno dei modi più efficaci per riequilibrare il meccanismo dello stress quindi un meccanismo che impatta naturalmente tantissimo sul nostro benessere come sapete già giusto per citare un'altra bravissima collega questa volta una psicologa Barbara Fredrickson che ha dimostrato che esperienze positive complesse che si chiamano eudaimoniche come il flow inducono modificazioni epigenetiche migliorando le risposte antinfiammatorie del sistema immunitario quindi è un mondo secondo me molto importante che potenzialmente può impattare tantissimo sulla vita delle persone vi rimando qui alla bellissima scuola di alta formazione di cui da quest'anno anche l'onore di partecipare dove naturalmente questo e altri argomenti saranno ancora più chiaramente approfonditi e spiegati e esplorati un saluto vi faccio un augurio di buoni teleomeri anzi lunghi teleomeri e buon flow e frequente flow grazie 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 grazie